Maestro, permette, io sono il salutatore e lei è un grande, volevo fare un saluto a tutti i tuoi fan di sempre. Sì, sì, un saluto facciamo a tutti i tuoi fan e un regalo per te, la manina del salutatore, questa per te te la meriti, io sono il salutatore, grazie, salutiamo. Questo è il mio dono che do ai grandi come a te. Grazie, facciamo gli auguri, buon Natale a tutti. No, no, mi chiamano. Grazie, ciao Giorgio. Ciao, ciao, grazie.